Abbasso un po', fai vedere la faccia? Ciao! Ok! Aspetta, ti do io il via, eh! 5, 4, 3, 2, 1, e andiamo! Veloce e sicura, eh! Dai! La prima deve andare, su! Facile! Andiamo! Buono! Ok! Ci scatto un po' di più! Ok! Adesso gambe forte! Forte, eh! Dai! Tillo! Giù! Ok! Quattro minuti e quarantasei ancora! Quattro minuti e quarantasei ancora! Prendi tempo! Parti la magnesia che fa vuoi! Guarda! Contra! Squatta profonda, eh! andiamo sotto là ok buono allarga bene i piedi e squat a profondo vai ok buona una di nuovo così buonissimo perfetto adesso diamogli di gambe e vai lì sotto forte stiamo stiello torna giù buono bravi raga se non va esci subito stiello eh Diamo una bella tirata E andiamo Sotto Chiello Ok Buono Dai Squatta Profondo Su Là Buono Andiamo Su Là Ok Buono Adesso devi dare gambe Tante gambe Fortissimo Chiamo Colpo secco Là Ok Questo mi sa che non ce l'abbiamo Sono tanti Sono tanti Sono tanti Lo vuoi riprovare? Se vuoi proviamo un altro tentativo Ma gli devi dare molto di più E devi andare molto più sotto nello split 60 60 60 Sì A 1 parti Sì Gli Qua Gli devi dare un colpo Gli devi dare fortissimo Se no non è in margine per andare sotto E andiamo Andiamo Sotto Sotto Ok Buona Allarga bene E andiamo Facili di squat Su Là Ok E un altro La 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 Ok Buono Adesso qua gambe forte E blocca forte E blocca forte i gomiti E andiamo Forte Va bene va bene Ro Va bene Buono Brava Un pochissimo Stop Ciao